L'Unione dei Comuni che mette insieme Gela, Niscemi e Butera attraverso la nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027 potrebbe coprire progetti per circa 80 milioni di euro. La partenza non è stata delle migliori a causa di una forte incertezza anzitutto regionale. Qualcosa inizia a muoversi anche negli uffici palermitani. Il Dipartimento delle Autonomie Locali ha appena rilasciato il decreto che stanzia fondi per tutte le unioni dei comuni costituite sull'isola. Annualmente fino al 2026 anche per quella locale è previsto una somma di circa 107 mila euro. Non la soluzione a tutti gli inconvenienti organizzativi ma comunque uno spiraglio in più per avere risorse da destinare ad una struttura in questa prima fase tendenzialmente quasi spoglia. Serve personale che si possa occupare dei progetti e delle complesse procedure. I sindaci di Stefano Conti e Zuccalà si confrontano da tempo sulla questione. Attualmente è il primo cittadino gelese che ricopre il ruolo di presidente e l'Aggiunta dell'Unione che conta su un consiglio composto da tre gruppi in rappresentanza di ciascun comune, compreso quello gelese con l'adema Labbiso, il civico Giorannello e il cuffariano Irti. Il Dipartimento regionale ha rilasciato una precisa tabella per delineare gli stanziamenti uguali per tutte le unioni siciliane. Sono somme che almeno in questo frangente potrebbero servire a coprire i costi per la governance e per la burocrazia dell'Unione che si deve dotare di organi tecnici e di controllo. Sono in corso invece le procedure coordinate a livello nazionale per selezionare esperti esterni che andranno ad occuparsi della lunga trafila dei progetti. Con una situazione così convulsa e con il lungo stop forzato imposto dall'eccessivo mobilismo regionale, pare difficile che il ciclo possa concludersi entro la scadenza originaria del 2026. Intanto sarà necessario dare uno scossone netto e il sindaco Di Stefano ha da poco attribuito la delega per l'Unione dei Comuni al neoassessore Peppe Di Cristina. La regione batte un colpo e per ottenere gli stanziamenti bisognerà presentare un piano di utilizzo annuale delle risorse. Inizialmente si ipotizzava comunque che lo stanziamento annuale potesse arrivare fino a 300.000 euro. Invece le somme sono decisamente inferiori.